È in corso un riposizionamento delle frequenze televisive del digitale terrestre. Dal 1 luglio Parole di Vita sarà visibile sempre sul canale 245, ma con una nuova frequenza. Se nei prossimi giorni non vedrai il canale 245, prova a risintonizzare il tuo televisore oppure il tuo decoder. I nostri fornitori di servizi televisivi ci hanno garantito una copertura iniziale pari al 70% della popolazione italiana, per raggiungere poi l'80% entro la fine dell'anno. Purtroppo per qualcuno di voi non sarà possibile nella parte iniziale continuare a riceverci, però ci sono i sistemi alternativi. Puoi continuare a seguirci attraverso il sistema satellitare, oppure attraverso l'app che trovi disponibile per Apple, Android, Huawei e Amazon Fire TV. Troverai le nuove frequenze sulla pagina www.paroledivita.org slash copertura trattino terrestre o contattaci al numero 0975 37 22 10.